Ieri mattina a Londra, Julian Assange è comparso di fronte al giudice Vanessa Bara nell'ambito del processo che lo vede coinvolto in relazione alla richiesta di estradizione dall'Inghilterra agli Stati Uniti, appunto chiesta dal governo americano nei suoi confronti. Assange si è dimostrato confuso, si è presentato molto magro, farfugliava, ha faticato a pronunciare il suo nome e la sua data di nascita, ha detto di aver difficoltà oggettive a parlare e il suo avvocato Summers ha chiesto un rinvio di tre mesi proprio a causa della mole enorme di accuse che sono piovute addosso ad Assange e che richiedono quindi un tempo ulteriore per poter approntare la sua difesa. Il suo avvocato ha sostenuto che durante il periodo in cui Assange è vissuto all'interno dell'ambasciata ecuadoregna sia stato spiato dagli americani, dai servizi segreti, ha parlato di qualsiasi forma di comunicazione da parte sua spiata dai servizi segreti e addirittura di strani personaggi incappucciati che di colpo facevano irruzione nella stanza in cui si trovava lui mentre discuteva con i suoi avvocati la propria possibile difesa. Naturalmente il rinvio è stato negato, il giudice non ha ritenuto opportuno di concedere questo rinvio di tre mesi e a febbraio ci sarà quindi la sentenza definitiva senza appunto nessuna proroga e mentre il giudice dava questo risponso il nostro Julian Assange ha cercato più volte in maniera anche piuttosto impacciata di sostenere che non fosse giusto. D'altra parte lo stesso avvocato aveva fatto presente come stessero in realtà combattendo una guerra completamente impari, una guerra non certo ad armi pari tra un uomo lasciato solo da tutti e una superpotenza. Ecco mi hanno fatto molto impressione le immagini che ho visto appunto registrate in un video presente su YouTube in cui si vede Assange che arriva in tribunale, non si vede lui ma si vede il furgone blindato che lo trasporta, gli attivisti pochissimi tra l'altro che attendono fuori con gli striscioni inneggiando alla sua libertà e alla sua liberazione ma soprattutto i giornalisti che alla cieca si accalcavano intorno al furgone applicando un po' come veniva gli obiettivi delle loro macchine fotografiche sui vetri del furgone stesso, vetri peraltro offuscati, cercando di così rapire il più possibile le immagini di questa che potrebbe essere tranquillamente definita una tragedia. E mi sono chiesto quegli stessi giornalisti che faticano così tanto per ottenere le foto quanto davvero stiano facendo il loro lavoro e quanto siano interessati a raccontarla questa storia e magari anche a denunciare i crimini contro i diritti umani che nei confronti di Assange sono stati perpetrati. Tanto per ricordare a chi non fosse del mestiere esiste una carta dei doveri siglata nel 1993 in piena fase di tangentopoli appunto così elaborata per arginare una situazione che stava diventando piuttosto complessa anche dal punto di vista giornalistico e questa carta dei doveri del 93 sancisce proprio la responsabilità dei giornalisti, di tutti i giornalisti nei confronti dei cittadini. Nel senso che il giornalista deve innanzitutto rendere conto al cittadino e rendere conto al cittadino rispetto in relazione alla verità dei fatti. Ecco la carta dei doveri del 93 sottolinea che la responsabilità di un giornalista nei confronti del cittadino non sia subordinabile a nessun altro interesse di qualsiasi tipo, politico, economico, finanziario eccetera. Ora la domanda che mi viene così spontanea e che in realtà come si può dire sorge anche in relazione a questa totale mancanza di informazione, a questo assoluto silenzio che anche solo nei confronti di quest'ultimo evento di ieri i giornalisti hanno scrupolosamente mantenuto non informando assolutamente di questa situazione e quindi guardandosi bene in qualche maniera dallo sporcarsi le mani. Ecco la domanda che viene spontanea è questa. Quanto veramente i giornalisti stanno adempiendo ai loro doveri di informazione nell'interesse pubblico? Quanto rispettano una carta dei doveri il cui mancato rispetto in realtà dovrebbe comportare la radiazione dall'albo dei giornalisti? Ecco questo è interessante, questa potrebbe essere addirittura così un'idea, uno spunto per poter smuovere le acque in quanto probabilmente i cittadini stessi interessati a una maggiore informazione potrebbero appellarsi all'ordine dei giornalisti nazionale, per esempio nel nostro caso quello italiano e fare appunto una denuncia, un esposto nei confronti di questo dovere dei giornalisti, di tutti i giornalisti italiani e di tutto il mondo, ma per quel che riguarda la nostra carta i giornalisti italiani rispetto alla verità e all'informazione che devono ai propri concittadini e chiedendo appunto che sia vagliata, che sia adeguatamente controllata questa responsabilità nel caso sia stata effettivamente osservata e nel caso, come io temo e sono in qualche modo convinto che si sia verificato, questa loro responsabilità non sia stata in nessun modo osservata, procedere alla loro radiazione. Buonasera.